Ciao ragazzi, eccoci qui per un nuovo video, faremo in questo video un piccolo focus sulla fotocamera dell'HTL OneTouch 6030D. Questa è la fotocamera, abbiamo praticamente il tasto di schiaccio della foto, qua possiamo fare zoom, c'è questa linea per fare zoom, poi abbiamo qui per utilizzare la fotocamera frontale o meno, qua abbiamo il flash, scegliere se è automatico metterlo o meno, carino, diciamo carino, beh questo è più che altro è un bug, praticamente quando io vado a girare la fotocamera il flash non si gira, l'icona, poi abbiamo qui la possibilità di scegliere griglia o no, scegliere l'acquisizione, quindi l'autoscena eccetera, poi l'automatico, luce dell'incandescenza, luce di urna, crepuscolare, l'esposizione, la modalità scena, diverse cose, poi la qualità, lo scatto rotturatore, il time si è attivato, dimensione foto e invece vado ai video ho praticamente intervallo timelapse, il bilanciamento del bianco, l'esempio dell'esposizione e la modalità scena, automatica, poi scegliere la durata del video, la qualità, microfono, scatto rotturatore, registra le località e quant'altro. Per quanto riguarda le foto che sono state scattate invece, questa foto è stata scattata, diciamo con scarsa luminosità e devo dire che l'immagine è venuta abbastanza bene, considerando che l'ambiente l'ha veramente scarsamente illuminato e anche quest'altra devo dire che è venuta davvero abbastanza bene nonostante sia scarsamente illuminato l'ambiente. Queste invece, poi le vediamo dopo il video, queste sono delle foto invece fatte all'esterno, possiamo apprezzare che il telefono realizza delle buone foto, probabilmente quando andiamo a fare uno zoom magari molto ampio sul pc, ecco diciamo che alcuni contorni, specie delle foto magari dove c'è poca luce, possono risultare un pochino un pochino diciamo rumorosi, però devo dire che la camera si comporta davvero abbastanza bene, questo per esempio è la foto da Neurostar frecciarossa, quindi in piena luce, devo dire che il telefono si comporta davvero bene, dai, per il prezzo che costa, soprattutto ottimo rapporto qualità prezzo per quello che ci propone. E poi infine il video che abbiamo realizzato e eccolo qui, devo dire che il video in HD è davvero ottimo, diciamo che per questo focus sulla camera è tutto, la camera direi che ci ha convinto, sicuramente non è una camera da top di gamma, ma una camera che devo dire se la può battere bene per chi utilizza il telefono per fare delle foto, dei video quando ha bisogno, ma magari utilizza videocamera e fotocamera come dovrebbe essere per degli eventi più importanti, devo dire che svolge il suo lavoro egregiamente il telefono e fa delle buonissime foto e dei buonissimi video. È tutto, alla prossima!